Contratti terziario si torna ai negoziati per i 500.000 addetti delle imprese di pulizia strutturate per i 200.000 della distribuzione cooperativa. Il 6 maggio lo sciopero intersettoriale turismo, molti servizi, termali e farmacie private. Il 28 maggio scenderanno in piazza gli addetti della grande distribuzione organizzata. Oxel. Nel triennio 2012-2015 il 77% degli accordi decentrati su crisi aziendale. Nel 2015 in crescita le intese su salario, orari e welfare aziendale. I dati dell'osservatorio CISL sul secondo livello di contrattazione. Petteni. Dal governo attendiamo misure non invasive dell'autonomia delle parti sociali sul nuovo modello di relazioni industriali. Carlson Vagonli Travel Italia. Siglato il nuovo integrativo per gli 800 addetti. Partecipazione, welfare e competitività le parole chiave dell'intesa triennale. Magnifico. Valorizzato il lavoro e lo sviluppo delle relazioni sindacali a tutti i livelli. DPS Troni FRC. Siglato il contratto di solidarietà coinvolgerà 600 dipendenti. Riduzione oraria dal 20 al 60%. Scongiurati 130 superi strutturali. Vanelli preservati i livelli occupazionali in un comparto duramente colpito dalla crisi dei consumi. Gruppo Cerved. L'alta adesione allo sciopero indetto dai sindacati di categoria contro i licenziamenti e l'esternalizzazione dei servizi. Campeotto. Posizioni inaccettabili. Società in buono stato di salute. Eppol Italia. In sciopero i 450 dipendenti somministrati del call center Teleperformance. La protesta di Felsa Cisle e Nidil CGL contro il mancato rispetto del contratto di lavoro. La solidarietà della Fist Cisle. Con la nostra rubrica dai territori faremo tappa in Friuli, Venezia, Giulia, Lombardia, Liguria, Toscana, Puglia e Sicilia. Bentornati al TG Lab. Riprendono i negoziati tra i sindacati di categoria Fisaska Cisle, Filcan CGL, Wiltux e le associazioni datoriali delle imprese di pulizia strutturate e delle imprese della distribuzione cooperativa per la definizione dei nuovi contratti nazionali di lavoro. I dettagli nel nostro servizio. È proseguita sui temi del welfare contrattuale la trattativa con le associazioni datoriali del settore imprese di pulizia strutturate per il contratto nazionale applicato ai 500 mila addetti del comparto dei servizi. Le parti hanno raggiunto un'intesa sull'iscrizione al fondo di assistenza sanitaria integrativa ASIM, ribadendo l'esigibilità della normativa contrattuale per tutte le aziende del settore. Ma il rinnovo è ancora lontano. I sindacati di categoria hanno dunque confermato l'adesione allo sciopero intersettoriale indetto per il 6 maggio prossimo contro lo stallo negoziale che coinvolge oltre un milione e mezzo di addetti dei settori turismo, multiservizi, farmacie private e comparto termale. Totalmente insufficiente per la FISASCAT la posizione delle associazioni della distribuzione cooperativa per il nuovo contratto nazionale di settore, sostanzialmente riconducibile a quella della feder distribuzione per il nuovo contratto della GDO. I nodi sulla derogabilità della contrattazione nazionale sulla sospensione degli istituti retributivi, sul trattamento economico per la categoria Cislina necessariamente da allineare, alle intese già raggiunte nel comparto commerciale con 85 euro di aumento al quarto livello. Le distanze riscontrate anche sul sistema di inquadramento, sull'orario di lavoro, sulle maggiorazioni e sul trattamento di malattia per le associazioni cooperative da ricondurre al contratto siglato con la Confcommercio, eliminando di fatto la normativa sulla distintività di settore. Il confronto è aggiornato al 12 e 13 maggio, mentre sono in programmazione in tutta Italia le assemblee informative per lo sciopero nazionale indetto in seguito alla rottura dei negoziati con feder distribuzione per l'intero turno di lavoro di sabato 28 maggio, con ulteriori otto ore da programmare a livello territoriale. Si ne espriscono intanto i toni della discussione con l'Associazione della Grande Distribuzione Organizzata, in seguito alle decisioni unilaterali annunciate a mezzo stampa sull'erogazione dell'aumento economico. Feder distribuzione, invece di travisare la realtà, ha fondato il segretario generale della Fisaskat, Pierangelo Raineri, dia un segnale circa la reale volontà di giungere alla sottoscrizione di un contratto nazionale di lavoro, atteso da oltre due anni dai 300 mila lavoratori della GDO, che stanno pagando a caro prezzo la frammentazione delle rappresentanze datoriali del terziario, distribuzione e servizi. Ci aspettiamo misure non invasive dell'autonomia delle parti sociali e che non intacchino la natura del sistema delle relazioni industriali. È questo l'auspicio espresso da Gigi Petteni, il segretario confederale della CISL, con delega alla contrattazione in occasione dell'audizione sul DEF e in Commissione Bilancio della Camera. La Confederazione di Via Po ha invitato il Governo ad agevolare il percorso con il varo del decreto sulla detassazione dei premi di risultato e del welfare contrattuale. Il servizio di Paola Mele. In tema di rinnovo del modello contrattuale aspettiamo di sapere quale tipo di intervento il Governo voglia fare. Se lo spirito è quello del decreto sulla detassazione dei premi di risultato e del welfare contrattuale, siamo nella giusta direzione. È chiara la posizione della CISL che rilancia a gran voce sul nuovo modello di relazioni industriali proposto con CGL e Will, oggetto di confronto ai tavoli già avviati con alcune associazioni datoriali, dove i due livelli di contrattazione, nazionale e decentrato, sono complementari l'uno all'altro. L'appello della CISL arriva al ridosso della presentazione dei dati dell'Osservatorio Confederale sulla contrattazione di secondo livello, a cui affidare una cornice di sostegno per non sprecare un'opportunità per il recupero di produttività e di crescita economica e sociale, ha affondato il segretario confederale CISL Gigi Petteni. I dati Oxal evidenziano infatti la vitalità della contrattazione anche nei periodi di crisi. Dall'analisi di oltre 5.000 intese stipulate dal 2009 al 2015, è emerso che proprio gli accordi di secondo livello si confermano essere lo strumento più efficace nella gestione dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Gli accordi sulla gestione dei percorsi di crisi sono passati dal 54% del 2012 al 77% nel 2014. Secondo il report della CISL sono in aumento anche gli accordi sul salario, dal 17% del 2014 al 30% nel 2015. In aumento anche le intese sull'innovazione organizzativa, sugli orari e sul welfare aziendale. Un momento magico per la contrattazione, così lo ha definito Gigi Petteni. Interromperlo, renderlo più difficile con misure contraddittorie, significherebbe bruciarlo, ha concluso Petteni commentando l'intervento legislativo annunciato dal governo nel nuovo documento di economia e finanza sulla contrattazione di secondo livello. Anche in questo caso la posizione della CISL è netta, no alla derogabilità della contrattazione nazionale sugli aspetti retributivi, sia alla esigibilità della contrattazione aziendale, purché non si leda l'autonomia negoziale delle parti sociali e non si intacchi la natura delle relazioni industriali. Buone notizie per gli 800 dipendenti di Carlson Vagolli Travel Italia, società del gruppo multinazionale del comparto Travel Company. I sindacati di categoria Fisaskat, Filcams e Wiltux hanno infatti siglato il nuovo contratto integrativo aziendale. Relazioni industriali ai due livelli, bilateralità di settore, formazione professionale, organizzazione del lavoro e sistema premiante sono i punti cardine dell'intesa triennale, valida fino al 31 dicembre 2018. Il sistema premiante totalmente variabile attribuito su scala nazionale viene rinnovato a decorrere dal 1 gennaio 2016 nell'ottica di favorire la reale partecipazione dei lavoratori. L'accordo interviene inoltre sulle pari opportunità, sul welfare aziendale, sul sostegno alla genitorialità, sulla salute e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla normativa in materia di lavoro agile e smart working. Soddisfazione in casa Fisaskat CISL. L'intesa valorizza il lavoro e lo sviluppo delle relazioni sindacali a tutti i livelli, pur in un contesto economico che ha fortemente penalizzato il ruolo degli intermediari turistici, ha dichiarato Alfredo Magnifico della Segreteria Sindacale. Si è conclusa con un accordo sul contratto di solidarietà la procedura di mobilità avviata dal gruppo di distribuzione di elettronica di consumo DPS Troni. Coinvolgerà 506 dipendenti per un anno dal 1 giugno 2016. La riduzione media dell'orario di lavoro sarà pari al 20% calcolata sull'interorganico e potrà essere attuata fino a un massimo del 60% a livello di punto vendita. La solidarietà coinvolgerà anche 88 dipendenti della controllata FRC per i quali la riduzione dell'orario di lavoro sarà del 30% fino a un massimo del 60%. Ancora una volta attraverso la contrattazione siamo riusciti a scongiurare licenziamenti salvando complessivamente 130 lavoratori coinvolti dal piano di esuberi, ha dichiarato Elena Maria Vanelli della Segreteria Sindacale Fisaskat. Il nostro auspicio è che il ricorso all'ammortizzatore sociale conservativo possa aiutare a risollevare le sorti di un'azienda particolarmente colpita dalla crisi dei consumi. Massiccia l'adesione allo sciopero indetto a sostegno dell'avvertenza che ha coinvolto i 400 lavoratori della Cerved Rating Agency. La protesta contro i licenziamenti annunciati per 21 addetti della FinService, azienda del gruppo che si occupa del credit management, e contro l'esternalizzazione dei servizi della società Recus. Si tratta di una posizione inaccettabile perché il gruppo Cerved è in buono stato di salute, come conferma la distribuzione degli utili ai soci, per oltre 70 milioni di euro, ha stigmatizzato Dario Campeotto della Segreteria Sindacale Fisaskat. La FIS, la Federazione dei Sindacati del Terziario e della CISL, ha espresso solidarietà ai 450 dipendenti in somministrazione di Teleperformance, la multinazionale call center francese che fornisce servizi ad Eppolo Italia, in sciopero per il mancato rispetto del contratto di lavoro. La protesta, promossa a Roma al centro commerciale di Parco Leonardo, dove a sede la società è stata indetta dai sindacati di categoria Fels CISL e Nidil CGL, contro il mancato riconoscimento dei livelli di inquadramento, la concessione delle ferie e dei permessi, delle maggiorazioni e della programmazione dell'orario di lavoro supplementare. Per la nostra rubrica dai territori, prima tappa in Friuli Venezia Giulia. La FISASCA CISL Alto Friuli ha espresso forte preoccupazione per la tenuta del comparto dei servizi del commercio in Carnia e nel Tarvisano. Secondo la categoria CISLina sarebbero complessivamente 500 disoccupati nel territorio. Ad aggravare la situazione le 100 mobilità attivate con la vertenza COPCA. Cifre mai raggiunte, ha dichiarato il referente Diego Santellani, che ha sottolineato anche la crescente incidenza del lavoro stagionale, con le evidenti ripercussioni sulla durata dei rapporti di lavoro. Tappa in Lombardia, cambio al vertice della FISASCA CISL Bresciana. Il Consiglio Generale del Sindacato ha eletto Walter Chiocci, nuovo segretario generale della categoria CISLina, classe 1967. Chiocci subentra ad Alberto Pluda, eletto nella segreteria provinciale della CISL. Dopo 19 anni in FISASCAT, posso affermare di aver vissuto un bel pezzo di storia della categoria che proprio quest'anno ha compiuto 40 anni e che negli ultimi anni ha visto triplicare i consensi. Ha dichiarato il neo eletto segretario. A Walter Chiocci e ai componenti di segreteria Rosita Poli e Vincenzo Fioravante, migliori auguri di buon lavoro. La categoria CISLina ha espresso forti perplessità sulla improvvisa chiusura definitiva del punto vendita Bresciano Super D. 13 dipendenti coinvolti dalla procedura di mobilità avviata dall'azienda che lamenta pesanti difficoltà economiche. Una chiusura improvvisa che ha sorpreso anche il sindacato, si legge in una nota diramata dalla FISASCAT CISL di Brescia, che ha annunciato l'impugnazione delle lettere di licenziamento in arrivo ai lavoratori. Tappa in Liguria, Sanremo. La FISASCAT CISL Imperia Savona, insieme alla SLC CGL provinciale, ha sollecitato il direttore del casino municipale Giancarlo Prestinoni ad avviare la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro. La piattaforma CISL CGL ha l'ambizione di unire la forza di tutti i reparti della casa da gioco per dare più peso alle richieste al tavolo di trattativa e iniziare così un cammino comune che andrà oltre il rinnovo contrattuale, ha dichiarato Marilena Semeria della FISASCAT CISL Imperia Savona. Tappa in Toscana. A Prato, i sindacati di categoria FISASCAT, Filcams e Wiltux hanno siglato un verbale di accordo con la direzione di panorama del centro commerciale Igigli sulla chiusura della procedura di mobilità che ha coinvolto 45 dipendenti. L'intesa contempla il criterio della non-opposizione a fronte di un incentivo all'esodo volontario. L'azienda potrà effettuare il trasferimento degli addetti ma solo nella provincia di Firenze. Gli esuberi saranno gestiti con il ricorso alla solidarietà con un piano di gestione delle prestazioni domenicali basato sulla disponibilità dei lavoratori. A Siena, le organizzazioni sindacali FISASCAT CISL e Filcams CGL hanno lanciato l'allarme per i lavoratori del comparto Vigilanza Privata esposti alla criminalità crescente nel territorio. Chiediamo maggiore attenzione alle problematiche dei lavoratori, hanno astigmatizzato le due sigle in un comunicato congiunto, sollecitando il rispetto della normativa prevista per le società del settore sui turni di lavoro e sul funzionamento dei ponti radio. Tappa in Puglia. La FISASCAT CISL e Foggia ha siglato l'intesa sul ricorso al contratto di solidarietà alla direzione della Comifar di Canosa. L'intesa ha consentito di scongiurare i 45 licenziamenti avviata dalla direzione dell'azienda distributrice di farmaci per riequilibrare il bilancio. L'applicazione dell'accordo sarà periodicamente monitorata dal sindacato, ha dichiarato Leonardo Piacquaddio, segretario generale della FISASCAT CISL di Foggia e Nord Barese, affinché si possa valutare il rientro dalle difficoltà economiche aziendali e interrompere il contratto di solidarietà anche prima del termine dei 12 mesi, così come stabilito dalla legge, ha concluso il sindacalista. La FISASCAT CISL Tarantoblindi si ha lanciato l'allarme per 10 addetti alle attività di custodia e portierato presso l'impianto CDR di scarica comunale di Autigno senza stipendio dal 5 aprile a causa del mancato passaggio di appalto a fronte del nuovo affidamento delle attività in oggetto da parte del comune di Brindisi alla Brindisi Multiservizi. Auspichiamo una risposta da parte di tutte le autorità del territorio, più volte sollecitata dalla FISASCAT, ha dichiarato Antonio Arcadio, segretario generale della categoria CISLina, che ha annunciato l'attivazione di azioni legali per il riconoscimento del diritto dei lavoratori coinvolti. Chiudiamo con due notizie dalla Sicilia. A Palermo la FISASCAT CISL Palermo-Trapani ha promosso, insieme alle sigle CGL e Will, la protesta dei 139 dipendenti del CE di Sisa, il più grande centro di distribuzione della Sicilia occidentale, e liquidazione per cessazione di attività coinvolti dalla procedura di mobilità. Le organizzazioni sindacali ricevute dal sindaco di Carini, dove a sede la direzione societaria, hanno ottenuto l'attivazione di un tavolo permanente di confronto con l'amministrazione comunale. In attesa dell'approvazione della richiesta di un concordato preventivo che dovrebbe consentire di nominare un amministratore straordinario, FISASCAT, Filcams e Will Tux hanno proposto l'attivazione della CIGS e in una nota congiunta hanno dichiarato la disponibilità alla definizione di un protocollo per l'occupazione, che vede coinvolte anche le istituzioni regionali, al fine di rilanciare l'imprenditoria sul territorio e la sana e regolare occupazione. Ed ora parliamo di una bella notizia promossa dalla FISASCAT Cisle di Palermo Trapani. La categoria Cislina ha donato un defibrillatore all'oratorio di San Gabriele Arcangelo dell'omonima parrocchia. La donazione dell'apparecchiatura medica consentirà a oltre 300 bambini di continuare a fare attività sportiva. La consegna è avvenuta al termine di un torneo di calcetto alla presenza del parroco Don Angelo Tomasello e del segretario della FISASCAT Mimma Calabro. A Messina si è svolta la nuova protesta dei lavoratori delle menze indetta dai sindacati di categoria FISASCAT e Filcams Wiltux in seguito all'annuncio dell'amministrazione comunale sulla sospensione del servizio fino alla fine dell'anno scolastico. Il caso unico in Italia ha dovuto alla mancata approvazione del bilancio di previsione senza il quale non è possibile indire la nuova gara per l'assegnazione del servizio per l'anno in corso. A pagare oltre alle famiglie sono gli 80 lavoratori coinvolti sui quali si sono riversate le conseguenze di una mancata programmazione. Hanno denunciato le sigle sindacali in un comunicato congiunto. Ci salutiamo e vi ricordiamo che è possibile consultare il TG Lab anche sul TGR Lab, Facebook e Youtube e che potete seguire le notizie in tempo reale su Twitter at FISASCAT. Per segnalazioni e suggerimenti potete scriverci all'indirizzo mail redazione tglab-fisaskat.it. Grazie per essere stati con noi e arrivederci la prossima settimana. La FISASCAT CISL tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario, turismo e servizi garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La FISASCAT CISL attraverso la contrattazione sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione professionale continua. All'indirizzo www.fisaskat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La FISASCAT insieme alla Felsa CISL ha dato vita alla FIST, la Federazione Italiana dei Sindacati del Terziario, per sviluppare una tutela a 360 gradi per i lavoratori dipendenti, autonomi, atipici e somministrati. La FISASCAT, la Felsa e la FIST sono il tuo sistema di tutela.